Politica. Il PD decide ancora di non decidere. Ennesima fumata nera sul nome da proporre alle provinciali. Il segretario Muzio non trova una soluzione. Ormai l'unica strada da seguire pare quella di Rossi ricandidato. Verso il Dolmiti Praia, l'associazione Pro Vita organizza preghiere e penitenze di giugno e un santo rosario per riparare all'evento. Intanto Rossi ribadisce la sua distanza scavando il solco con il mondo e le ZTBT. Folla al funerale di Dino Panato alla chiesa del Sacro Cuore in San Bartolomeo. Il grande fotografo si è spento all'età di 68 anni a causa di una grave malattia. Come saluto la messa a fuoco sia sull'infinito. La Guardia di Finanza sequestra 200 giocattoli in Rive del Garda venduti in Trentino realizzati con materiali scadenti e nocivi. A finire nei guai un'impresa gestita da cinesi. I prodotti saranno distrutti. Incidente appena fuori la galleria tra Soraga e Moena lungo la statale 48. Motociclista forse abbagliato dal sole appena uscito dal tunnel sbanda e finisce a terra. E li trasportato a Trento. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acli-servizi.it 199 199 730